La stazione ornitologica abruzzese sulla gestione della riserva naturale della pineta d'Annunziana conteste e diffide il comune di Pescara. In particolar modo l'associazione contesta l'assunto che siano state le regole della riserva a peggiorare i danni dell'incendio, spiegando che oggi anche l'aria non toccata dalle fiamme non è sicura. La prontura di fida nei confronti del comune di Pescara, manutenzione che invece, dice il sindaco Masci, straordinaria e ordinaria c'è e ci sarà. Allora intanto diciamo che il comune di Pescara è uno dei pochi comuni dove ci sono riserve naturali che ha un piano antincendio, che è operativo ed ha una durata biennale, gli interventi vengono fatti regolarmente, e qui noi abbiamo gli operai che giornalmente sono attivi all'interno di tutta la riserva naturale per fare le attività ordinarie di pulizia e di manutenzione, dove queste possono essere fatte, perché non in tutte le zone si può fare manutenzione ordinaria, soprattutto nelle zone di riserva integrale questo non è possibile, ma anche in queste zone, per esempio l'eliminazione delle piante esotiche, che negli ultimi cinque anni è stata fatta quattro volte con progetti specifici. Ho sentito dire anche che mancavano le bocchette antincendio, invece ci sono, ce ne sono molte, soprattutto c'è un appalto biennale per la manutenzione delle bocchette antincendio, tant'è che funzionavano tutte e hanno funzionato tutte nel momento dell'incendio. Oggi credo che sia il momento di mettere da parte le polemiche. L'incendio è entrato dentro la pineta due ore dopo che era partito, in quel momento dentro la pineta c'erano vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri, protezione civile, cittadini comuni che si impegnavano per intervenire, per aiutare. Io credo che quello sia lo spirito che noi dobbiamo utilizzare in questo momento per fare in modo che la nostra pineta possa rinascere. Le carte ci sono, noi le abbiamo ricontrollate tutte con i tecnici che ci hanno detto che tutte le attività che dovevano essere fatte sono state svolte, anzi, quando abbiamo fatto attività di polizia in qualche occasione siamo stati anche denunciati perché hanno detto che eravamo andati oltre quello che si poteva fare. Certamente l'impegno di tutti c'è stato e continuerà ad esserci. Io vorrei chiedere a tutti quelli che oggi parlano e che fanno polemiche dove erano domenica pomeriggio perché io ero qua insieme a questi operai, insieme ai vigili del fuoco, insieme a tutti quelli che volevano salvare la pineta e ci siamo stati per cinque ore a respirare fumo, a respirare benzene, a cercare di salvare gli alberi e anche a cercare di salvare i cittadini che in quel momento erano angosciati, soffrivano, piangevano. Ovviamente io mi rivolgerò ad esperti autorevoli, sensibili, che conoscono il territorio, che hanno esperienza, che hanno professionalità, che hanno competenza e soprattutto che ragionino in termini oggettivi per fare in modo che questa pineta possa tornare a essere quello che è stata da sempre.